Andiamo ora a vedere uno dei testi fondamentali per la comprensione della poetica di Pirandello, sia dei suoi scritti in prosa sia soprattutto del suo teatro. Si tratta del saggio intitolato L'umorismo del 1908. Desidero leggervi alcune frasi che sono spunto di riflessione sui temi già visti e anche su altri già accennati. In questa pagina tratta dalla parte seconda, egli dice a questo sentimento solito della vita, cioè le nostre certezze consuete di tutti i giorni, della vita quotidiana, non possiamo più prestar fede perché sappiamo ormai che sono un nostro inganno per vivere e che sotto c'è qualcos'altro a cui l'uomo non può affacciarsi se non a costo di morire o di impazzire. Ecco qua c'è riferimento a quanto abbiamo detto in precedenza, lo staccarsi, la maschera dal volto, quindi vedere che comunque sotto la realtà, non solo l'identità delle persone ma anche sotto la realtà in generale, c'è qualcos'altro che la realtà è un'illusione, una messa in scena, un grande teatro. E qua possiamo fare riferimento chiaramente ad esempio a Montale, il Varco. Ecco non c'è solo questo ma c'è anche l'idea che per affacciarsi al Varco, diciamo, a quello che Pirandello chiama lo strappo nel cielo di carta del teatrino della vita, in un passo del fumatì a Pascal, quindi un punto di discontinuità si potrebbe dire che ci rivela che dietro c'è qualcosa, che questa è tutta una messa in scena. A questo Varco l'uomo non può affacciarsi se non a costo di morire o di impazzire. Quindi il prezzo da pagare per togliersi la maschera dal volto, per vivere la vita, appunto per vivere veramente il fluire dell'esistenza, cambiando forma e modo quando si vuole, il prezzo da pagare è la pazzia, la follia. Quanto meno se uno è cosciente di quello che sta facendo, deve sapere che gli altri lo chiameranno pazzo. Immaginatevi, non so, l'insegnante che invece di venire a scuola come sempre, come tutte le sere, viene vestita da discoteca, si mette a ballare sulla cattedra, immaginatevi il medico che riceve il paziente, che so, in mutande, immaginatevi l'avvocato che invece di difendere il cliente si mette a fare una gag comica. Ecco, tutti questi sono atteggiamenti con cui l'individuo, magari esasperato dalla propria vita, esce dalla maschera, dal ruolo sociale, lo rifiuta. Però poi, una volta fatto questo, rientrarci è praticamente impossibile, perché viene automaticamente etichettato come pazzo. Andiamo ora a vedere una riflessione di Pirandello, sempre presente nel saggio L'umorismo, ma già anticipata nella prefazione alla sua raccolta, alla dinovelle, all'opera Erma Bifronte, è proprio su quello che fa ridere, che suscita il riso. Spesso in Pirandello abbiamo dell'ironia, un riso sarcastico, a volte ironico, prima, quando leggevamo un passo di Uno Nessuno e Centomila, se vi ricordate, il protagonista, per quanto orto, era il caro Vitangelo. Questo signore, questo amico, era anche un amministratore della sua banca, quindi questo caro Vitangelo era anche una forma di circostanza. In questo caso è stato chiamato dalla moglie per far interdire il protagonista, quindi il caro Vitangelo ha anche, insomma, il solito modo di vederlo, lui che si sta togliendo la maschera dal volto, ha anche un che di ironico. Ma ci sono esempi molto più chiari di cosa Pirandello intenda per umorismo e ce lo spiega lui stesso proprio nel saggio L'umorismo. Dice nella prefazione, nella dedica della raccolta di novelle Erma Bifronte all'amico Camillo Innocenti nel 1906, quindi poco prima di pubblicare poi nell'Otto il saggio sull'umorismo, dice Io vedo come un labirinto dove per tante vie diverse, opposte, intricate, l'anima nostra si aggira senza trovare più modo a uscirne. E vedo in questo labirinto un'Erma, cioè una statua, che da una faccia ride e piange dall'altra. Ecco qua, ride e qua piange. Ride anzi da una faccia del pianto della faccia opposta. Andiamo ad approfondire questo concetto leggendo un passo che riprende proprio quest'idea tratto dall'umorismo. In questa pagina, in cui Pirandello parla dei caratteri, la materia dell'umorismo, dice a un certo punto Esteticamente e psicologicamente l'umorismo può considerarsi come un fenomeno di sdoppiamento nell'atto della concezione. Erma Bifronte che ride per una faccia del pianto della faccia opposta. E qua abbiamo appunto l'immagine di una statua, una Erma Bifronte, una statua con due facce, significa, che era molto consueta nel mondo classico, in particolare per rappresentare uno dei più antichi dei del panteon romano, cioè Giano. Però era semplicemente un Erma Bifronte. Pirandello la fa diventare un simbolo che da una faccia ride del pianto dell'altra. E questo è l'umorismo. Se uno ride, si limita al comico. Quando comincia a piangere, cioè subentra la riflessione, abbiamo l'umorismo. Quindi un che, magari a volte di ironico, magari di sarcastico, ma comunque un riso comico che diventa però amaro. E ce lo spiega Pirandello con un esempio, un esempio molto chiaro, che probabilmente vi schiarirà la situazione, tratto sempre dal saggio sull'umorismo. Hai l'esempio della vecchia imbellettata. Immaginate una vecchia signora che va in giro, tutta discinta o tutta truccata, come se fosse una ragazzina di vent'anni. Chiaramente fa ridere, perché noi ci mettiamo, vedendola passare per strada, magari sobalziamo dicendo oibò, guarda quella come si è conciata, no? E quindi avvertiamo, ci rendiamo conto che è l'opposto di quello che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Questa cosa ci suscita il riso. Però, dopo un po' di tempo, deve subentrare chiaramente la riflessione, se noi andiamo a riflettere, ci rendiamo conto che quell'atteggiamento ridicolo, fuori luogo della vecchia imbellettata, magari è dettato dal tragico tentativo, vano tentativo di piacere al marito, molto più giovane di lei, di sfuggire allo scorrere del tempo che la porta inesorabile verso la morte. Ecco, se pensiamo a questo, allora non possiamo più ridere, vedete? Non possiamo più ridere, si passa dal riso al pianto, un sentimento di tragedia che è appunto il sentimento del contrario. Quindi siamo passati dall'avvertimento del contrario che suscita il riso al sentimento del contrario che suscita, in seguito alla riflessione, il pianto, diciamo così. Però entrambi gli aspetti finiscono per convivere, quindi abbiamo un riso in sostanza amaro. E qua effettivamente ho rappresentato con le due maschere tragica e comica del teatro classico questo aspetto, due maschere unite insieme, ridiamo e piangiamo allo stesso tempo. Andiamo a leggere questo passo dell'umorismo in cui Pirandello parla appunto di questo sentimento ambivalente e della differenza tra il comico e l'umoristico. Noi vedremo che nella concezione di ogni opera umoristica la riflessione non si nasconde, non resta invisibile, non resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi uno specchio in cui il sentimento si rimira, ma gli si pone innanzi da giudice, lo analizza, spassionandosene, ne scompone l'immagine. Da questa analisi però, da questa scomposizione, un altro sentimento sorge, ospira, quello che potrebbe chiamarsi e che io di fatti chiamo il sentimento del contrario. Vedo una vecchia signora coi capelli ritinti, tutti unti, non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata di abiti giovanili. Mi metto a ridere, avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così a prima giunta e superficialmente arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima. Perché appunto la riflessione lavorando in me mi ha fatto andare oltre a quel primo avvertimento o piuttosto più addentro. Da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza fra il comico e l'umoristico. Per noi tanto il comico quanto il suo contrario sono nella disposizione d'animo stessa ed insiti nel processo che ne risulta. Nella sua anormalità non può essere che amaramente comica la condizione di un uomo che si trova ad essere quasi sempre fuori di chiave, ad essere a un tempo violino e contrabbasso di un uomo a cui un pensiero non può nascere che subito non gliene nasca un altro opposto contrario, a cui per una ragione che egli abbia a dir di sì subito un'altra e due e tre non esorgano che lo costringono a dire no e tra il sì e il no lo tengan sospeso perplesso per tutta la vita di un uomo che non può abbandonarsi a un sentimento senza avvertire subito qualcosa dentro che gli fa una smorfia e lo turba e lo sconcerta e lo indispettisce. Questo stesso contrasto che è nella disposizione dell'animo si scorge nelle cose e passa nella rappresentazione. Ecco dunque appunto che abbiamo un contrasto una duplicità nel umorismo cioè l'aspetto comico e l'aspetto tragico fusi insieme e a proposito di un uomo fuori di chiare quindi contrastato uno che pensa una cosa nel contempo un'altra decide una cosa nel contempo un'altra morso dal dubbio un uomo così rappresentato per esempio sul palcoscenico di un teatro risulta estremamente comico se poi ovviamente andiamo a pensare rappresenta molto spesso la situazione di tutti noi quando siamo rosi dal dubbio indecisi incerti presi dall'ansia dall'angoscia dal tormento e quindi sotto questo aspetto è sia comico come percepito all'inizio sia insieme tragico in sostanza quindi umoristico e qua abbiamo alcune immagini che ho tratto da internet potete trovarle ai link indicati e questa è proprio un'immagine di uno spettacolo in cui c'era una signora che può benissimo rappresentare la vecchia imbellettata molto appariscente divertente insomma comica e qua quest'altra immagine ci invita più alla riflessione rappresenta la vecchia che si trucca vedete che non ha quasi connotati umani è solo una maschera una maschera in cui anche le mani il volto tutto sono rugosi quindi c'è proprio l'idea che è vero così è simpatica è divertente è buffa fa ridere però forse sotto forse sotto c'è una maschera che serve a coprire un lato tragico come ad esempio l'inesorabile scorrere del tempo